Sono appena passati 24 ore dalla notizia della fuoriuscita della maggioranza del movimento a testa alta guidato da Francesca Agostino ed è pronta subito la risposta del primo cittadino Cosentino. Dice ancora più forte il nostro impegno per la crescita di Cittanova. Una scelta definita, un atto di tradimento, quello nei riguardi degli elettori che hanno affidato allo schieramento di centro sinistra il mandato di amministrare nel segno del cambiamento. Stupore proprio per i tempi della decisione, così continua la nota di Cittanova Cambia che ha avuto così rilevanti incarichi di responsabilità proponendo alle altre forze anche l'attuale figura del sindaco che dopo quasi nove anni di esperienza comune e a poco più di un anno alla fine dell'attuale legislatura decida la strada del disimpegno. Pretestuose e contraddittorie proprio per la maggioranza le motivazioni adotte dal momento dello stesso gruppo di a testa alta che vengono comunque riconosciuti il grande lavoro realizzato e gli importanti risultati e finanziamenti conseguiti grazie all'azione amministrativa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.